Ciao a tutti e benvenuti qui sul mio canale YouTube, io sono Lorenzo Cozzerini e in oggi voglio mostrarvi come giocare jazz con congas. Il pattern basico che uso è il classico Thun Bao, ma il mood in cui gioca il pattern è il shuffle mood. Ora vediamo prima il pattern basico e dopo il pattern basico e qualche variazione in un tempo lentamente. Ora vediamo il tempo. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Questo è il pattern e le variazioni. Ora spiego il stesso pattern in un tempo fast with jazz loop. Grazie per la visione! 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 Bye! Grazie per la visione!